di manifestazioni, aste, vendite televisive che ci permetteranno di realizzare al meglio la tua collezione, al meglio e nei tempi più brevi. Te lo dico con gioia, approfittane, ne sarai ben soddisfatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salutiamo il nostro Carmelo. Hai fatto una splendida produzione, sei stato molto, molto bravo. No, siamo in tre esattamente, esatto, siamo in tre. Abbiamo già il numero di visualizzazioni su YouTube? Tante. Tante? Tante. Sono molto contento. Come? Beh, questa è una cosa molto interessante, è un progetto che magari potremo anche mandare avanti nel corso dei mesi, anche perché il 2020 sarà un anno carico di mostre, soprattutto per quanto riguarda appunto l'anno dedicato ovviamente a Raffaello. C'è già in programma una mostra importantissima a Milano, quindi giocheremo in casa e avremo sicuramente il piacere di accompagnarvi con questi nostri, non documentari, diciamo che sono delle passeggiate nell'arte, degli speciali sì, anche perché poi non hanno quella durata noiosa, chilometrica, una cosa molto più tranquilla, quanto è un quarto d'ora, ogni circa un quarto d'ora. Per chi chiaramente ancora non avesse avuto modo di dare uno sguardo, disponibile sia sul nostro sito che sul nostro profilo Facebook, lo speciale che insieme chiaramente a Carmela e Francesca abbiamo realizzato per quanto riguarda la mostra di Giulio Romano a Mantua con la doppia sede. Abbiamo visitato sia Palazzo Tè che il Palazzo Ducale, fra l'altro possiamo dire che siamo stati trattati un po' da VIP, ci hanno fatto vedere il nuovo progetto di illuminazione della Sala dei Giganti che è veramente molto, molto fascinoso e di grande carattere. Ce l'abbiamo solo noi in esclusiva. E ce l'abbiamo solo noi in esclusiva, esattamente. Quindi avrete l'opportunità di sbirciare quella che sarà anche la futura illuminazione di una sala spettacolare, ma è pazzesca, pazzesca, ti gira veramente la testa, è un posto strepitoso, mostra bellissima che vi consiglio di visitare, anche perché insomma, come abbiamo descritto e come avrete modo di vedere, di ascoltare poi all'interno del nostro speciale, ci sono dei prestiti veramente importantissimi, quindi c'è l'opportunità di vedere dipinti che molto difficilmente riusciremmo a poterne godere, insomma poterli vedere, anche perché ci sono dei prestiti molto importanti non solo dal Louvre per quanto riguarda la parte più riferibile al disegno, ma ci sono dei prestiti importantissimi dal Puchkin e dall'Hermitage con due dipinti veramente di grandissimo, grandissimo livello di assoluta importanza, quindi insomma è stato un grande piacere che speriamo che possa essere davvero il primo di una lunga serie, beh Mantua poi ci ha offerto una splendida pausa culinaria con un dottore della cucina mantovana, abbiamo conosciuto un dottore della cucina mantovana, anche perché poi davvero, guarda siamo capitati, volevamo andare a mangiare all'Osteria delle Tette, dove fanno il riso alla pilota che è molto molto buono, è un locale storico, tanto salutiamo la nostra Alessandra, che è al centrale, il riso alla pilota è un piatto tipicamente mantovano, fatto con riso, un mantecato in un modo particolare, con la salsiccia o addirittura se non sbaglio col salame, con la pasta di salame, ah ok, no io in quella zona sono rimasta i tortelli con la zucca, gli amaretti, esatto, quindi io volevo portarli a mangiare il riso alla pilota, abbiamo trovato chiuso e quindi ci siamo rifugiati in questo locale, dove ci siamo dati ai tortelli, in maniera intensiva, infatti a mano rigorosamente, ma buonissimi, quindi vedete la cosa bella dell'arte è che molto facilmente si accompagna al buon cibo, al buon vino, dovremo creare un filone, un percorso, magari la prossima tappa è proprio Cremona, sarebbe un'ottima idea, veramente fantastica, perché Cremona regala tanto, tantissimo, 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 guarda che è una città che dal punto di vista culinario, diciamo è no gastronomico e artistico, è vero, se no si mangia benissimo, si beve bene, la carina, piccola, le persone sono tutte, no no, ci sta, beh poi ragazzi consideriamo che per esempio a Cremona, così giusto per dire, c'è un Caravaggio, c'è il San Francesco di Caravaggio, ci sono i campi nel Duomo, ci sono le tele di Malosso, insomma, è una città, c'è anche una splendida tavola di Perugino, molto molto bella, quindi è sicuramente una delle città più interessanti del panorama italiano e chissà, forse la visiteremo e forse anche lì ci inventeremo qualcosa, questa sera come è ormai consuetudine esordiamo con un panorama legato chiaramente al Novecento e alle fasi un pochino più contemporanee riferibili alla pittura nazionale ed internazionale perché ovviamente come sempre cercheremo di dare uno sguardo abbastanza ampio a tutte quelle che sono le scuole e gli artisti di particolare livello. Fra l'altro devo segnalarvi immediatamente la presenza di due lavori interessantissimi legati a due nomi molto importanti, da una parte Mario Schifano, dall'altra parte Festa, Tano Festa, sono due serigrafie, sono tutte e due dei lavori molto molto interessanti, fra l'altro mi pare che lo Schifano sia una prova d'artista, sia un PA, credo anche il Festa, è un PA giusto, è una prova d'artista, esattamente, e ve li segnalo immediatamente perché, perché sono due opere davvero molto molto interessanti, fra l'altro anche di ottima epoca, che vengono proposta di una cifra, permettetemi di dire, veramente sciocca, veramente ridicola, perché mi pare si parli di 500 euro cada uno, quindi mi permetto di segnalarlo così immediatamente in modo tale che magari gli interessati al collezionismo di questi due imperdibili artisti possano intervenire molto velocemente e abbiamo l'opportunità di intervenire in maniera immediata. E c'è un altro splendido lavoro, ancora una volta, andiamolo a vedere perché, fra l'altro è un lavoro dei, abbiamo Schifano, Angeli e Festa, Festa sono dei pennarelli dell'84, se non sbaglio, fra l'altro anno della mia nascita, un bellissimo marocchino, mi raccomando, visualizzate mentalmente il numero che è il numero 17, anche questa è un'altra delle cose che vediamo questa sera per la primissima volta, esattamente come l'Angeli, esattamente come lo Schifano e vi consiglio ovviamente, proprio rimanendo nell'ambito di quelli che sono prezzi immediatamente raggiungibili, di essere abbastanza veloci, perché lo dico e lo confermo nel vostro interesse. Quindi mi raccomando perché sono, ecco le vedete proprio numero 15, numero 16, numero 17, li abbiamo raggruppati Schifano, Angeli e Festa. Occhio perché sono tre cose molto interessanti in un momento in cui, fra l'altro, si riesce a capire sempre più attentamente quanto il panorama del mercato, l'attenzione del mercato si rivolga anche a questa tipologia di lavori. Quindi due serigrafie per quanto riguarda Schifano e per quanto riguarda Franco Angeli e poi abbiamo i pennarelli di Tano Festa, che sono anche loro sicuramente, anche quella, pardon, è un'opera, come vi dicevo, da, come dire, confermare, prendere in maniera abbastanza veloce. Poi parleremo anche di dimensioni e di prezzi. Ma non ci fermeremo qui, per quanto riguarda Schifano abbiamo l'opportunità ancora una volta di vedere, di studiare, di analizzare una delle sue emulsioni di più alto livello, opera degli anni 70, con, lasciatemelo dire, un prezzo molto interessante e molto avvicinabile, soprattutto per chi eventualmente volesse, come dire, consolidare anche il proprio percorso collezionistico su un artista che ormai è diventato una delle basi fondamentali del mercato internazionale, dopo i grandi risultati di qualche anno fa, a partire da quel grande record realizzato a New York. Poi, chiaramente, il running di Schifano è stato un percorso tutto in ascesa e tutto legato, appunto, ad una maggior, sempre maggiore internazionalizzazione e ad una, lasciatemelo dire, riesce a riscuotere un numero sempre più importante di successi, proprio in quello che è l'ambito internazionale, che fino a prima della grande, come dire, aggiudicazione degli 800 mila dollari a New York, gli era stato un po' fra virgolette negato, se non per quelli che erano ovviamente i suoi capolavori. Dico una cosa ovvia, se sottolino e confermo ancora una volta quanto sia fortemente ricercato proprio in questo momento il meglio di Mario Schifano, sia dal punto di vista della pittura comunque dei veri e propri quadri, usiamo un termine così abbastanza ampio, sia dal punto di vista della sua produzione più, come dire, legata al concetto del multiplo, come nel caso della serigrafia di cui parliamo al numero 15. Fra l'altro, attenzione, firmata ovviamente, firma autografa di Mario Schifano, con la caratterizzazione della prova d'artista, quindi un pezzo particolarmente interessante, fra l'altro, ripeto, a soli 500 euro, questa secondo me dovrebbe essere una delle vostre selezioni più veloci e più, una delle meno meditate, mettiamola così, veramente una di quelle cose da prendere più che a cuor leggero. Avremo poi due opere importantissime di Licata, avremo tre gioielli di Franca Pisani che sono, anche loro secondo me dovrebbero essere confermati da un unico cliente per costruire un bellissimo trittico, anche perché sono le sue famosissime sete di Lione, quindi possiamo tranquillamente… come? Avevamo già… sì, è vero, avevamo già una forma di interessamento sulle sete di Lione e credo che sia… esatto… esatto… esattamente, esattamente, era proprio lì che volevamo andare a parare, proprio perché ne sono state presentate alcune domenica mattina che credo siano state poi velocemente confermate, sono state, come si dice nel gergo tecnico, bruciate e ne è stata fatta richiesta successivamente alla conferma di quelle che avevamo ancora disponibili sul set, ma praticamente erano ovviamente finite, ne sono arrivate altre… tre mi pare siano proprio queste qui stamattina e quindi proprio per riuscire a colmare quella mancanza nei confronti dei nostri clienti della domenica abbiamo deciso appunto di costruire questo trittico che ovviamente io vi consiglio di prendere in considerazione proprio in quella che è la sua interezza, poi è ovvio che chiunque volesse confermare anche in maniera singola il numero 10 piuttosto che il numero 8 o piuttosto che il numero 9 non c'è nessun problema, non gli viene negata questa opportunità e ovviamente sulle sete di Lione abbiamo il monoprezzo, c'è una proposta che è unica per ognuno dei lotti che vi facciamo e che vi faremo vedere durante la nostra serata. Tra l'altro attenzione perché sono le produzioni più attuali, le produzioni più fortemente ricercate proprio per quello che è il concetto legato alla trasparenza della sete di Lione che dobbiamo dire ha affascinato moltissimo sia il nostro pubblico ma anche quelli che sono i collezionisti al di là della nostra proposta perché ovviamente il segno di Franca Pisani non è un trend unicamente legato a quella che è la nostra proposta ma è un trend che si allarga in maniera importante anche a quelli che sono gli ambienti extra televisivi come sta succedendo per esempio per Renato Mambo che come abbiamo detto nel corso delle nostre settimane, gran parte del suo catalogo è stato preso in mano da uno dei tre mercanti d'arte contemporanea più importanti al mondo e abbastanza prossima l'inaugurazione della mostra proprio a Firenze in Casa Tornabuoni dedicata a Renato Mambo e da quel punto in poi, da quel momento in poi insomma sarà sicuramente un escalation molto molto importante che porterà secondo me anche alla consacrazione internazionale, il mercato del nostro buon Renato. Quindi Franca Pisani con tre cose... Ricordiamo il successo di questo tipo di opere al macro? Ah beh assolutamente perché poi queste sono giustamente le opere più rappresentative rispetto a quello che è stato il grande successo della mostra del macro, quindi è ovvio che il nostro pubblico si orienti proprio verso questa scelta perché c'è un link immediato e c'è un link che è abbastanza, come dire, ecco di sostanza c'è un link abbastanza importante. Mi pare si parli di 1200 euro l'una per l'altra, quindi ecco perché mi permettevo di consigliarvi una conferma del trittico in modo tale da poter costruire un nucleo importante rispetto a quella che è una produzione che, ripeto, sta riscuotendo un successo veramente di alto livello. Avremo poi la prima parte del set dedicata ad un altro artista che rimane come sempre una delle nostre scelte primarie che è chiaramente Montanarini e poi ecco le tre opere legate al nome alla firma di Licata, fra l'altro questa bellissima, al numero 5. Dunque, gliela facciamo vedere per favore, perché qui parliamo peraltro di un'opera di epoca molto importante per quanto concerne il catalogo di Licata, parliamo di un'opera del 1953, è un gioiellino, è veramente un gioiellino, è una carta da 13 per 17 centimetri all'incirca, firmata e datata al 1953, uno dei maestri più interessanti del panorama degli ultimi 50 anni a livello internazionale e peraltro, occhio perché qui, come sempre noi cerchiamo di fare, poi soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta produzione su carta, alla quale noi siamo molto molto attenti, soprattutto per quelle che sono state le ultime risultanze del mercato. Io l'ho segnalata più volte questa tendenza che è evidente anche rispetto a quelli che sono gli eventi fieristici che di volta in volta aumentano e dedicati in maniera proprio, come dire, monografica a quelli che sono i lavori su carta. Il più importante di tutti è quello che sicuramente conoscerete in maniera più universalmente nota è appunto Wopart Fair, sede internazionale lugano dedicata esclusivamente ai lavori su carta dall'antichità fino agli artisti contemporanei. Attenzione perché la carta dedicata del 1953 la proponiamo a 1.500 euro, cioè ad un super prezzo, un iper prezzo, guardate la staccherei e la comprerei io perché un'opera del genere con un'epoca così importante ad un prezzo così piccolo diventa uno dei riferimenti, oh questa mosca fastidiosissima, uno dei riferimenti, come dire, non solo a livello di collezionismo ma soprattutto a livello di investimento, visto quello che è stato il mercato, soprattutto il mercato più recente per quanto riguarda il maestro Licata. Quindi mi raccomando perché a 1.500 euro, guardate, questo è il gioiellino dal quale vorrei iniziare questa sera. È bellissimo, è bellissimo Carmelo, è bellissimo. Possiamo inquadrare subito l'opera 6 per un nostro gentile amico? Certo, è proprio l'altro Licata su cui sarei andato immediatamente dopo, eccolo lì. Allora per quanto riguarda Licata all'otto numero 6 diamo un attimino di riferimenti perché è un'opera databile fra l'80 e l'82, fra l'altro anche di ottima dimensione perché è un 38 per 46 come potete vedere, come avete potuto vedere anche all'interno della scheda passata velocissimamente. Il prezzo credo che lo stiano già conoscendo al centralino. E ovviamente una tela, sì sì, chiaro, chiarissimo, assolutamente, senza ombra di dubbio. Posso staccarla un attimo perché poi la cosa importante sull'Icata è chiaramente la provenienza e sappiamo qual è la più importante e la più ricercata. Fammi dare uno sguardo. Galeria Il Traghetto, esattamente. L'olio proviene dalla Galeria Il Traghetto. È piaciuto? È piaciuto, tanto ringrazio. È un nostro gentile amico? Grazie. Posso darle un consiglio? Sicuramente, poi è chiaro che qui i collezionisti, più attenti i collezionisti, più famelici anche da un certo punto di vista, in particolar modo per il nostro Alicata, cercano ovviamente di arrivare prima sugli oli, che vengono ritenuti in maniera universalmente nota, le opere, diciamo, di maggior pregio, di maggior livello. Posso però dirvi che la carta del 53 è un gioiello da veri intenditori? E non capita così facilmente di poter essere definiti grandi intenditori e grandi collezionisti con un impegno di soli 1.500 euro. fra l'altro, attenzione, perché vedo qui che l'opera del 53 è stata esposta e pubblicata all'interno della mostra dedicata a Mestre, appunto al maestro Riccardo Licata, nel 2012. Quindi è un oggetto ed è un prodotto che ha già, non solo, vedete quante cose ha, quanti siano gli elementi a favore di questa importantissima preziosità e di un'epoca importantissima. Costa niente, perché poi questo è l'elemento fondamentale, ed è già stato esposto e pubblicato nel 2012 da quella che ovviamente è la galleria che in maniera più intensiva si è dedicata appunto alla valorizzazione di Riccardo Licata. Questo, signori miei, è un pezzettino da prendere al volo perché, ripeto, al di là di quello che è il piccolo prezzo, il valore storico, il valore a livello critico, il valore artistico e anche quello che è il valore di mercato è sicuramente molto più importante. Vi ho sempre chiesto di fare una differenziazione fondamentale fra quello che è il prezzo a cui un'opera vi viene proposta e quello che in realtà è il suo valore di mercato, che molto spesso possono non coincidere, soprattutto all'interno di questa forma di proposta, sulla quale noi stiamo premendo in maniera molto importante perché, come abbiamo detto, sono le risultanze del mercato a farci capire dove vogliono andare oggi i nuovi collezionisti, ma anche dove vogliono andare oggi quei collezionisti che hanno un'esperienza già consolidata, quindi chi ha un percorso lungo, chi ha un percorso profondo all'interno del collezionismo, soprattutto relativamente a questi autori, parlo anche di schifano, parlo di angeli, parlo di festa, oggi valuta con un'attenzione sempre crescente quelli che sono i lavori sia serigrafici sia chiaramente quei pezzi unici su carta che da un punto di vista abbastanza basic, abbastanza facile, assumono proprio per la loro unicità un valore ancora più importante, quindi mi permetto di segnalarlo proprio a chi in maniera specifica ama collezionare l'opera e i migliori prodotti del catalogo di Riccardo Licata, perché qui c'è una grandissima occasione, del 1953, esposta e pubblicata nel 2012 a Mestre, la provenienza fondamentale per quanto riguarda il dipinto degli anni fra l'80 e l'82, abbiamo il passaggio dalla Galleria Il Traghetto per chi eventualmente volesse avere anche questo dettaglio rispetto all'altra opera che è stata precedentemente richiesta, io però se posso veramente spezzare una lancia in favore di una proposta, in favore di uno dei nostri lotti in maniera immediata lo faccio proprio su Licata da 1500 Euro, un gioiello per veri collezionisti e questo peraltro signori è una di quelle opportunità, è una di quelle possibilità che ci fa capire come per essere buoni collezionisti e come molto spesso per raggiungere pezzi molto importanti e di grande solidità alla propria raccolta, non ci sia bisogno di impegnarsi con chissà quali cifre. Oggi siamo sempre più tendenzialmente portati a pensare che l'oggetto è tanto più importante quanto più viene pagato, questa è una teoria che si basa secondo me su fondamenta sabbiose, su fondamenta assolutamente deboli per Costituzione, perché è una logica che risponde, su questo possiamo essere credo tutti abbastanza d'accordo, è una logica che risponde più a dei trend di moda che a effettive risultanze, quindi lasciamo perdere tutto quello che è il mondo dello star system legato alle aggiudicazioni milionari, ai centinaia di migliaia di dollari e ritorniamo con i piedi per terra cercando di riuscire a cogliere in maniera immediata a quelli che sono i prodotti migliori. Questo signori miei è un gioiello e a soli 1500 Euro in un certo senso avreste quasi l'obbligo di confermarlo, sento che questo è sicuramente uno di quei dipinti e una di quelle carte che non tarderà ad essere selezionata. Ma la posso portare dietro? Mi tiene compagnia. È da viaggio, bravo, è un'icona da viaggio, un trittichetto da viaggio, in modo tale che poi di tanto in tanto cosa... Stai scherzando, di matti in giro ce ne sono tantissimi. Allora poi rimetterò a posto anche il licata che è stato precedentemente richiesto dal nostro gentile amico. Vi faccio dare uno sguardo anche a quella che è l'ultima parte del nostro set dove successivamente alle grandi opere di Schifano, di Angeli e di Festa c'è una teoria splendida legata al mio artista preferito che è Herman Nietzsche, l'artista del sangue, l'artista delle viscere, l'artista del segno, l'artista... non posso neanche dire l'artista del futuro perché sarebbe una sciocchezza... Sì sì, assolutamente. Ovviamente queste sono le opere uniche ma numerate che abbiamo avuto l'opportunità di poter estrarre, di poter trattare successivamente a quella che è stata la sua performance veronese. Ovviamente per ogni opera confermata, come abbiamo già detto in passato, tutte le volte che abbiamo presentate e come confermiamo anche questa sera, avrete l'opportunità di avere in regalo, in omaggio, il catalogo legato appunto a quell'evento all'interno del quale avrete l'opportunità non solo di conoscere dal vivo la storia della performance veronese ma anche di avere la vostra carta bella pubblicata, quindi avrete l'opportunità di poter avere il riferimento bibliografico. Ve le faccio vedere perché sono dal numero 18 al numero 22 con delle piccole... no, qui siamo su Montanarini. Abbiamo delle piccole variazioni di prezzo ma veramente poche centinaia di euro l'una dall'altra. Voglio controllare però prima di darvi questo riferimento perché voi sapete che poi quanto io sia inattendibile con i numeri e infatti, prendete quello che vi ho detto e cancellatelo totalmente, parliamo di 2800 euro l'una per l'altra, quindi potete scegliere tranquillamente perché anche per quanto riguarda la parete dedicata ad Ermanich, Arte Investimenti vi garantisce il monoprezzo. A me questa piace particolarmente, sì, 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 proprio quella che vi sta inquadrando in questo momento, il nostro Carmelo, è in assoluto una delle mie preferite. No, volevo dare uno sguardo, mentre ve le fanno vedere, io volevo dare uno sguardo ad una cosa. Sì, esatto, esatto. Allora, questa parte del set l'abbiamo organizzata in maniera, come dire, tematica perché questo è l'angolo dedicato ad Ermanich, precedentemente ve le faccio rivedere perché secondo me anche queste sono tre cose da non perdere assolutamente, il corner dedicato alla grande scuola di piazza del popolo, signori miei, allora, giusto per darvi un'idea e per farvi capire come mai io vi stia chiedendo di essere immediatamente attivi. Il Festa, 2.100 euro. L'opera di Festa, il numero 17, la proponiamo in prima visione assoluta a 2.100 euro. Dopodiché, le due serigrafie, numerata 99 su 125 di Franco Angeli e la prova d'artista di Schifano, tutte e due, insieme, ok? Se andaste a confermarle, ad acquistarle insieme, vi costerebbero 1.000 euro. 1.000 euro. Questa è una totale follia. Cioè, oddio, noi siamo già abbastanza folli a proporvi un prezzo del genere, diciamo molto simpaticamente, senza voler essere critico, che a parte comprate bene, ma sarebbe una grande follia da parte vostra non approfittarne. Cioè, qui sta succedendo qualcosa di particolare, perché questo in realtà è un trend che noi abbiamo intrapreso con l'opera grafica di De Chirico. Abbiamo avuto per un paio di settimane a disposizione da un collezionista privato, speriamo di poterci ritornare, di poter pizzicare ancora qualcosa, anche se lo abbiamo quasi del tutto svuotato, questo nucleo di opere legate appunto all'arte, alla produzione grafica, al catalogo delle opere grafiche di Giorgio De Chirico. Cose che oggi hanno, prendi le incisioni a ceramolle, opere che vanno dai 3.000 ai 3.500, 4.000, a seconda poi di chi viene a proporto, a seconda del contesto fioristico in cui le vai a pescare, noi le abbiamo proposte, mi pare, con prezzi che non superavano i 2.000 euro. Ci sono state alcune delle iconografie più note del più maturo periodo metafisico di De Chirico che sono andate via per 800 euro, 700 euro, 950. Perché c'è questa opportunità a livello di prezzi? Perché scioccamente queste sono opere che la maggior parte delle televisioni commerciali tende a non considerare. Allora in questo io posso essere completamente d'accordo con voi quando mi dite che il mondo delle fiere e il mondo della televisione sono due entità completamente distaccate. Poi è chiaro che all'interno di questa tendenza a generalizzare ci sono dei casi specifici come quello di arte e investimenti che in controtendenza rispetto a quello che è il lato più meramente commerciale, decide invece di guardare con un occhio molto più profondo a quello che è e a quelli che sono i movimenti del mercato più serio, più internazionale, strutturato attraverso le gallerie che oggi ci dice occhio alle opere su carta, occhio alle opere grafiche di determinati autori. Per dirvi proprio una sciocchezza, credo che domani al centro svizzero di Milano Pandolfini batterà un'asta che è sicuramente destinata a rimanere nella storia, perché è l'asta del tesoro ritrovato di Callisto Tanzi, dove dentro c'è Van Gogh, Pisarro, Zandomeneghi, Renoir, Degas, Monet, c'è un Picasso pazzesco del 48 valutato, 800 milioni e due e poi attenzione perché, questo ci fa capire anche come molto spesso alcuni collezionisti già andassero a precorrere i tempi, ci sono tantissime opere su carta e anche litografiche di Matisse, di tutti quelli che sono stati i personaggi più importanti della seconda fase del Novecento, con valutazioni anche abbastanza sode, quindi occhio perché queste sono indicazioni veramente molto particolari e avete l'opportunità di sfruttare quella che è la nostra voglia di investire, quella che è la nostra voglia di proporre sempre cose nuove, di seguire quelli che poi sono gli indirizzi fondamentali che ci vengono dati dal mercato, avendo l'opportunità di pescare proprio quelle particolarità ai prezzi più bassi, perché signore e signori, due serigrafie, una importantissima come la prova d'artista di Schifano, l'altro come l'esemplare 99 su 125 di Franco Angeli a 500 euro cada uno, praticamente signori miei è un prezzo da mercatino, ecco perché vi conviene arrivarci velocemente, capite? E io fossi in voi, visto l'impegno che è praticamente sciocchissimo, sciocchissimo, le prenderei entrambe, giusto così per toglierci il pensiero, per toglierci da ogni forma di problema, la prima volta che mi capita di vederle a prezzi così bassi, io le prendo tutte e due, anche perché se posso dire la mia, io ho avuto l'opportunità di lavorare per un po' di tempo in quella che dal punto di vista televisivo è l'azienda che possiamo dire ha inventato il mercato di Schifano in Italia, anzi dobbiamo, molti di noi devono la loro fortuna professionale proprio a quell'azienda lì e fino a quando io ho avuto l'opportunità di essere all'interno di quel circuito come tanti miei colleghi e quindi di, sapete cosa accadeva? Accadeva molto spesso, io lavoravo al sabato con la pittura antica, da luna alle 5, quindi alle 5 io finivo la mia trasmissione, prendevo su la mia valigetta, facevo per andare via e ti affacci sempre, saluti il collega che ha appena iniziato, guardi un po' il set, magari stai un po' lì, chiacchieri con i colleghi e io ho il limpidissimo ricordo di quando opere come queste qui venivano proposte a 1500, 1800, 2000, poi con lo sconto dell'X arrivavano a Delta, ma io a 500 euro non le ho mai viste, mai, mai viste, quindi andateci, andateci immediatamente signori miei, ok? Mandate un messaggio via WhatsApp, dateci un colpo di telefono, la nostra Alessandra attualmente la vedo bella impegnata, perché sicuramente queste sono opere che riscuotono un certo successo, smuovono il vostro interesse, soprattutto perché veramente proposte a nulla. Anzi, io farei, guarda a questo punto, Carmelo, se me lo concedi, io consiglierei al nostro pubblico, magari a chi vuole in casa un angolo, no? Che vada a rappresentare quelli che sono poi i nomi più importanti della scuola di piazza del popolo, io consiglierei la conferma di tutti e tre, Schifano, Angeli, Festa, sapete con quanto li portate via? Con 3100 euro, tutti e tre, con 3100 euro, esatto, e questi sono penarelli su carta e attenzione, come vi ho detto 1984 per quanto riguarda la datazione, quindi tre cose importantissime, i 3100 euro e qualcosa di più li vale lui, cioè praticamente voi, è come se gli altri due vi fossero regalati, è un conticino molto semplice, è un conticino della serva veramente molto molto semplice, il penarello è bellissimo, è bellissimo, non esiste il prezzo dei 2100 euro, non esiste il prezzo dei 2100 euro, sì sì, assolutamente, qui non stiamo parlando di un multiplo, attenzione, perché alcuni potranno dire, ah ma gli altri due sono multipli, sono due serigrafie, che è un discorso, permettetemi, sciocco, veramente sciocco, ma qui signori miei, non stiamo parlando di un multiplo, ok? Capite? Quindi il prezzo del blocco, se voi fate un blocco da mercante questa sera, il prezzo del blocco forse da solo compra il festa, forse, forse da solo compra il festa, capisci? Che poi c'è anche un certo, come dire, c'è una certa rarità anche dal punto di vista del mercato, credo che questo sia il secondo che riusciamo a vedere. Sono una sorta di cadeau amichevole, cioè fanno parte di quelle che sono poi le relazioni personali che il maestro aveva con i propri collezionisti, con i propri amici, con i propri critici, con quelli che facevano parte di quello che era il suo entourage, quindi stiamo valutando un pezzo che ha anche una dimensione storica all'interno di quello che è il sistema dell'autore che è veramente molto importante. E ripeto, se poi volessimo essere davvero molto terra terra, molto brutali anche da un certo punto di vista e quindi ci disinteressassimo completamente di considerare le ragioni storiche, le ragioni critiche, le ragioni artistiche e parlassimo solo di bile e denaro, signori miei, gli altri due è come se non li andaste a pagare. Certo, certo. Allora valutiamo il pennarello di festa in maniera contenuta? Bene, se fossimo in un'asta questo è un oggetto valutabile fra i 3.500 e i 4.000. Vogliamo essere un attimino più con i piedi per terra? Benissimo, valutiamolo fra i 3.000 e i 3.500. Che cosa vuol dire? Bravissimo, che se tu mi alzi la mano a 3.000 e hai l'opportunità di essere l'unico? Se ci metti il 20% d'asta, metteci il 20%, dai, sono 3.600 euro, così. Perché molto spesso, ma io vi capisco, io sono stato per tantissimo tempo in trappola con le aste, preda delle aste. E allora sai come si chiama? Copertina 868. Ah sì sì, copertina 868, esattamente. Come il nostro canale Sky, esattamente, quindi è particolarmente autoreferenziale questo lavoro. Allora, molto spesso anche io sono stato preda della psicologia dell'asta. La psicologia dell'asta, tu guardi la valutazione e dici, ah sì, valutato 3.000-5.000, lo batti, lo ribatti, magari dai anche due colpi in più rispetto a quello che avevi pensato di fare e poi quando vedi la fattura finale dici, ah caspita, però avevo dimenticato il 20% dei diritti, avevo dimenticato il trasporto, avevo dimenticato questo e quest'altro. Qui, signori miei, non solo avete un prezzo che è di 1.000 euro inferiore rispetto a quella che potrebbe essere la base d'asta in un qualsiasi contesto, ma avete un prezzo che è bloccato, non ci sono tasse, gabelle, balzelli ulteriori, siete bloccati. Avete l'opportunità di valutarlo, non vi impegnate ad acquistarlo, anche se quelli che sono i collezionisti e i clienti veri di questa azienda, cioè quelli con i quali abbiamo un rapporto ormai consolidato, so perfettamente che se chiamano per un oggetto del genere è perché lo vogliono comprare, ma per eventualmente quelli che sono i nuovi amici, le nuove amiche che dovessero affacciarsi per la prima volta alle nostre proposte, sappiate che per la copertina 868, per il bellissimo marocchino, scusami, abbiamo fatto confusione, per lo splendido marocchino di festa, per il grandissimo pezzo unico di festa, la proposta è quella dei 2.100 euro e potete tranquillamente confermarlo senza nessun impegno all'acquisto. Però, signori miei, questo è uno di quei lavori che per chi ha avuto l'opportunità di andare a vedere l'edizione di quest'anno di Wopart Fair a Lugano è proprio da inserire in quel contesto lì. Io punto molto su queste cose, perché parlare degli oli, parlare dell'emulsione, parlare dei due oli delicati è una cosa molto facile, signori miei. E poi chiaramente voi siete i primi giudici e sapete perfettamente che la materia da giudicare non è tanto quella della bontà della proposta, cioè nel senso di originalità, epoca, pubblicazione, eccetera, ma è il prezzo. Le cose su cui fino ad ora la TV commerciale vi ha fatto ragionare pochissimo e ne ha proposte veramente pochissime, sono proprio queste, sono queste qui, sono esattamente queste. E ripeto, in questo caso non è solo una questione di, è come dire, investimento in termini di tempo televisivo che noi dedichiamo a questo settore, ma è anche la proposta economica che vi facciamo, perché è quella che cambia sostanzialmente le carte in tavola, amici miei. Ora, la nostra Alessandra credo che abbia avuto dei lunghissimi colloqui con il nostro pubblico, ho sentito parlare di serigrafie, ho sentito parlare... Sono interessati a quella carta delicata o no? Sì, molto, moltissimo. Signori miei, allora, che cos'è che vi turba? Ditemelo in maniera amichevole, come se ci conoscessimo ormai da anni, ditemi cosa vi turba su quella carta delicata, noi glielo alziamo, se volete pagarla di più, non ci facciamo mica troppi problemi, assolutamente no, però dai, guarda che gioiellino che è, guarda che roba che è, su. Ve la volete regalare una certezza? Ve la volete regalare una certezza o no? Lo avete seguito per anni, per anni, dai primi momenti di esordio sul mercato, nazionale, fino a quelle che sono state le sue ultime importantissime gesta pittoriche. Lo avete comprato a qualsiasi cifra, dagli esordi fino ad ora. Avete investito decine di migliaia di Euro e avete fatto bene, signori miei. Siete stati molto bravi e molto attenti a quelle che erano le indicazioni che vi venivano date da più parti del mercato. Non fate lo sbaglio ora. Chi meglio di voi può arrivare ad un oggetto del genere? Chi più di voi conosce l'importanza di una carta del 53? E soprattutto, permettetemi di dire, chi più di voi può riconoscere la genuinità del prezzo? It's so easy. La serigrafia la paghi sicuramente di più. Ma vedi, è questo il nostro obiettivo fondamentale, signori miei? Ve l'ho detto con l'antico. Con l'antico noi molto spesso abbiamo proposto dei quadri molto importanti con prezzi molto arrivabili. Dici, caspita, quadro pubblicato, autore di un certo tipo, eccetera, eccetera. Come mai costa così poco? Beh, chiaramente quando tu allarghi il ramo d'azienda, cosa devi fare? Devi far capire al tuo pubblico, devi far conoscere al tuo pubblico che c'è anche questa nuova proposta. Quindi devi farti pubblicità. Devi farti pubblicità, ok? La pubblicità se tu la vai a fare su un giornale, se tu la vai a fare per televisione, se tu la vai a fare sulle riviste di settore, costa. Qual è l'altro modo che si ha per poter pubblicizzare un certo prodotto? Passo parola. Passo parola, ma scioccando. Chi ti guarda, chi ti ascolta, magari non compra, magari non conferma, però inizia a capire che tu gli hai fatto vedere Gian Antonio Pellegrini a 2.000, 2.700, 3.000 euro, non mi ricordo a quanto sia andato via. Tu gli hai fatto vedere un massimo stanzione firmato da 120 per 160 a 38.000 euro, un quadro che ne vale almeno 60-80. Questo è il modo che tu hai per sfruttare il tuo canale, quindi la messa in onda televisiva, per risparmiare tutto quel denaro che ti verrebbe storto per fare pubblicità in altre situazioni e per far capire al tuo pubblico in maniera diretta qual è il messaggio. Bene, questo l'abbiamo fatto per l'antico. Ciò non significa che non si possa fare anche per il contemporaneo. Anche perché, e questa è una scelta, come dire, aziendale che io condivido pienamente ed è legata, permettetemi di dirlo, anche al fatto che comunque, come avete potuto vedere, come conoscete, peraltro lo staff di Arte Investimenti è molto giovane. Quindi è uno staff che cerca di essere sempre molto all'avanguardia e molto al passo con i tempi. Noi spendiamo molto del nostro tempo lavorativo guardando le aste, leggendo i report, dando uno sguardo a quelli che sono gli articoli più importanti del giornale dell'arte, legato alle mostre, legato alle gallerie. cerchiamo di leggere e comunque di prendere coscienza di quelli che sono i report e le indicazioni delle grandi case d'asta. Cerchiamo di fare un lavoro che ci possa mantenere costantemente aggiornati su quelli che sono i trend più originali. Questi. Questi qui. Voi direte, eh ma alcune cose le ha fatte vedere anche Tizio, le ha fatte vedere anche Caio, le ha fatte vedere anche Sempronio. Perfetto, avete pienamente ragione. Ma parlare di episodi spot è una cosa differente che parlare di un processo in cui si tende a valorizzare in maniera costante un certo tipo di produzione. Ma non perché ci siano magazzini pieni da svuotare. Perché noi sappiamo che oggi le nuove indicazioni del mercato e che cosa significa questo? Significa che c'è una nuova forza giovanile di collezionisti che entra a far parte del mercato. Le nuove tendenze di mercato soprattutto per quanto riguarda la parte più giovane i collezionisti più giovani si rivolge qui. Si rivolge a questo tipo di prodotto. Guarda con attenzione a questa proposta. È chiaro che se poi la carta dedicata tu la vai a comprare in Galleria di Amazzoleni a Wopart Fair o magari perché te la espone a Basel la paghi 7-8 mila euro. Ma questa è un'altra questione e io sono d'accordo con voi sul fatto che molto spesso determinati prezzi siano, come si dice, overpriced, quindi siano overestimate, perché la cornice in cui tu li vai a comprare è di un certo tipo. Comprare a Basel non è come comprare ad Artissima. Capite? Comprare a Basilea non è come comprare a Verona o a Bologna. Eppure sono comunque, per quanto riguarda il panorama nazionale ed internazionale, sia Artissima, sia Verona, sia Bologna, sono tre fiere molto importanti, con espositori molto importanti, con progetti di Contemporary Art sicuramente ma guarda, ma, 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 non così diversi, non così diversi, perché Artissima a Torino costicchia. Data l'importanza che la Carmessa ha assunto, gli espositori investono cifre abbastanza interessanti, però chiaramente non sono Art Basel o non lo sono ancora, attenzione. Quindi molto spesso, come vi dicevo, determinati prezzi che sono oversize, per dirla in maniera un attimino più comprensibile, sono legati anche al dove io vado a comprare, da chi vado a comprare. Noi, ripeto, stiamo mandando avanti un percorso teso a valorizzare queste opere. e questa sera più che mai credo che si possa parlare di una diretta particolarmente votata alla valorizzazione di questo ambito. Quei signori miei abbiamo, seguimi un secondo, poi io voglio ritornare sulle tre opere di Franca Pisani che a 1200 euro lasciare lì è veramente un delitto, giusto per citare. Ok? Allora, io qui vi faccio vedere una, quelle che dovrebbero essere secondo me le quattro conferme certe della vostra serata. Quei quattro oggetti che sarebbe veramente inspiegabile mancare. 1500 euro la carta del 53 di Riccardo Licata. Mi vergogno a dire il prezzo perché sapete io sono abbastanza come dire un po' snob su queste situazioni e su queste opportunità. Mi viene un po' male parlare di 500 euro per una prova d'artista di Schifano. Mi viene altrettanto male parlare di soli 500 euro per l'esemplare bellissimo di Tano Festa di Franco Angeli perdonatemi e mi viene ancora peggio parlare dei 2100 euro per i pennarelli di Tano Festa. Ok? Allora sono 3100 euro 1, 2, 3 se poi ci mettiamo i 1500 di Licata finiamo a 4600 euro cioè capite? Peraltro credo che l'importo sia interamente finanziabile cioè capite? 4,6 abbiamo fatto un conto totale con 4,6 portate via 4 opere importantissime giusto così per darvi l'idea anche di quale possa essere la rateizzazione ve lo diciamo fra un po' perché la nostra Alessandra è bella impegnata fra i Whatsapp i vostri messaggi Facebook quindi abbiate un attimo di pazienza però signori miei ripeto cioè poi non è che qui si stia parlando perché dici sai questo discorso me lo fai su quegli artisti infieri allora posso capire come dire non tanto la titubanza quanto un attimino di meditazione in più qui stiamo parlando di 4 nomi fondamentali Schifano Angeli Festa Licata 4 nomi fondamentali 4 autori che voi seguite da decenni che avete acquistato in quasi tutte le salse ma che mai come questa sera sono vicini alle vostre possibilità questo è il concetto signori miei cosa posso fare col minore impegno economico possibile dove posso arrivare con la spesa più contenuta possibile e difficilmente anche noi riusciamo a mettervi in condizioni così vantaggiose è molto difficile anche per noi parlare di prezzi così ridicoli per l'Angeli per lo Schifano per il Festa ma permettetemi di dire che questo risulta essere veramente pazzesco il Licata quello di collocata si c'è allora chiedere una cosa del genere che poi magari una volta che ci incontriamo viene anche accordata ma chiedere una cosa del genere è come dire all'impiccato che sta quasi per morire scusa ma se ti faccio un taglio in pancia non credi Ale ho usato una metafora forse un po' tarantiniana un po' palp però signori miei ora io ripeto non ho né i mezzi né il potere di poter dare determinate indicazioni però dai lo sconto su questo Licata a 1500 euro vuol dire veramente tirarci via il sangue poi la gestione dei clienti non è la mia è un qualcosa che compete molto più a Diego o ancora di più al nostro Gabriele però davvero come se volesse davvero impiccarci il nostro amico io ripeto indipendentemente dall'opportunità poi di poter negoziare la cifra che magari gli verrà anche data io lo metterei da parte cosa si può fare qualche centinaio d'euro in meno ma proprio per volergliela regalare eh? eh sì eh come? no aspetta sperando che sia come dire una conferma logisticamente non troppo distante perché se già magari questo è un oggetto che inizia ad andare a Roma a Napoli a Bari a Palermo lo stiamo veramente regalando eh? ma davvero anche perché come ho detto precedentemente in fase di pubblicizzazione cioè quando tu decidi di investire del tempo e del denaro cercando di essere pionieristico quindi cercando di essere il primo che poi fa un certo lavoro sulle opere serigrafiche sulle opere sui supporti cartacei eccetera eccetera la cosa che devi fare all'inizio qual è? eh guadagnare il meno possibile perché? perché tu devi avere l'opportunità di far girare oggetti di convincere i collezionisti ad affidartene altri di avere l'opportunità di comprarne altri sui quali poi farai quello che è il tuo percorso ma qui siamo agli esordi di questo grande eh e permettetemi di dirlo pionieristico investimento aziendale quindi i nostri margini sono veramente risicatissimi e quando parlo di risicatissimi signore e signori senza voler raccontare bugie perché poi a me le bugie sono sempre piaciute pochissimo per non dire niente si parla di poche centinaia di euro quindi chiedere una negoziazione non perché noi non abbiamo la volontà di portare di farvi portare a termine la vostra acquisizione ma perché qui sarebbe veramente cioè è come se ve lo girassimo al prezzo di costo signori miei e capirete bene che questa è una situazione che non riguarda solo il Licata ma che riguarda anche lo Schifano che riguarda anche l'Angeli che riguarda anche il Festa quindi da parte nostra c'è tutta la volontà affinché si possa concludere una negoziazione seria e soprattutto basata su oggetti di grande sostanza sappiate però che i margini che noi abbiamo in questa prima fase di proposta in questo abbrivio del nostro percorso che sarà molto lungo e che vi porterà di volta in volta a poter valutare sempre cose diverse prevede veramente margini molto 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 piccoli signori miei facciamo rivedere anche le due serigrafie sei dubbiosa Ale e tu sai che per quanto la nostra buona volontà ci voglia portare sempre ad accontentare il nostro pubblico a volte mi permetto di chiedere anche al nostro pubblico di essere come dire siate buoni siate buoni non non prendeteci non prendeteci veramente per il collo perché ma scusa posso sapere se c'era stata una controfferta o no perché sì 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 facciamocelo anche qui sulla scuola di piazza del popolo assolutamente perché no non così Grazie a tutti. 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 , ok? Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. Esatto. Esattamente. Grazie a tutti. 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 BMW sponsorizzare. Grazie a tutti. 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 qui. Flux. Non ho capito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. dipinto dipinto. No, il festa. Oh, il festa. Finally. Oh, il festa. Certo. Frango. Non ti capiscono. No, il festa. virus. ti sei fumato. bellissimo. bellissimo. e c'era, c'era. il gentile amico. su amico, non lo so. è un sughi. l'avevi messo. palazzo. è proprio l'idea. della sospensione. erotica. di questi viso. palazzo. Sheslong questa sorta di, qual è la traduzione italiana di Sheslong? No, sì, ma ha un termine ben preciso che, oddio, su forza da casa aiutatemi come si traduce nel gergo italiano, ma nel gergo tecnico Sheslong, no, beh insomma mi verrà e ve lo dirò, ha un qualcosa effettivamente di metafisico. E poi è molto bello, molto interessante vedere come proprio negli anni 80 ci sia questa linea di contorno che diventa fondamentale proprio nella distinzione di quelli che sono i piani di rappresentazione. È ovvio che c'è una sorta di licenziosità nella materia trattata che rende questo dipinto particolarmente interessante. Non è il momento degli uomini seduti, non è il momento degli interni di caffè, ma è un momento di grande ispirazione intima. È un dipinto realizzato in studio, ovviamente, e poi c'è questa licenziosità di base che diventa secondo me la parte più fortemente erotica, la parte più fortemente toccante del nostro dipinto. Quindi, quadro veramente… Bravo, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Perché di che cosa parliamo ancora una volta se non di moda? Allora, se tu mi parli dell'interno di caffè della Pinacoteca di Cesena, che è un quadro atomico, atomico, o quelli che ci sono in un paio di collezioni private, sempre a Cesena, che ho avuto la fortuna di vedere, fra l'altro quando ero molto giovane avrò avuto 20 o 21 anni, allora lì ho visto degli interni di caffè che sono da sballo. Però attenzione, perché come sempre bisognerebbe fare una distinzione fra quella che è la produzione più originaria di quella tematica, che una volta incontrato il favore del pubblico diventa produzione seriale, è commerciale sostanzialmente. Però, siccome poi, come sempre avviene, il mercato si ciba di quello che c'è in più grande quantità, gli ultimi 30 anni di televisione vi hanno messo davanti a quelle cose lì, a scapito di queste iconografie, che al di là di alcuni clienti e collezionisti abbastanza specializzati, sono poco apprezzate, purtroppo e non ha ragione ma ha torto. Allora, io devo a questo punto salutare, ringraziando tutto il pubblico che questa sera, agevolato da prezzi e da pezzi molto interessanti, è stato fondamentalmente ben presente. Quindi ringrazio alle amiche e gli amici che hanno deciso di partecipare questa sera. Ringrazio ancora una volta Carmelo, la nostra Raf, tornata più in forma che mai in regia, la nostra splendida Alessandra che stasera ha avuto il suo bel da fare e auguro a tutte voi e a tutti voi una buonanotte e che sia una splendida settimana. Ci rivediamo giovedì con la pittura antica. Buonanotte. Au revoir. Grazie a tutti. Grazie a tutti.